ma se ci mettessimo tutti d'accordo con la coca cola e tutti facessimo un video in cui rimettiamo a posto le bottigliette quei 4 miliardi lì che hanno perso potrebbero raddoppiare e una parte dalla noi che facciamo questa cosa qua è un'idea folla chiamata oggi naturalmente una cazzata ovviamente quella che vi sto dicendo però perché no se vale un principio perché non vale anche il suo contrario prendo due lattine coca cola e le metto qua la birra è un altro discorso quella di Pogba perché lì è un discorso più anzi esclusivamente religioso ok è un discorso religioso se vogliamo potrebbe essere un discorso religioso anche quello di cristiano ronaldo cioè la sua religione che sappiamo essere diversa da quella di tutti gli altri però potrebbe essere un'idea valida per fare un po di soldi coca cola no acqua eh coca cola va bene basta chiuso la parentesi delle puttanate adesso vediamo di occuparci qualcosa di serio perché ragazzi qua se non si sbrigano ma non possono neanche sbrigarsi stavo dicendo se non si sbrigano a far firmare il contratto a palo di bala poi è ovvio che saltano fuori tutte queste cose a metà tra le voci e le situazioni reali ossia e l'atletico madrid che sarebbe andato pesante a richiedere paolino di bala alla juventus inserendo nella trattativa anche saul che però non è un attaccante saul è un interno in centrocampo può giocare anche da esterno ha fatto anche il terzino ha fatto ha ricoperto tanti ruoli nella sua carriera tranne quello di attaccante poi è uno che sa sfruttare molto bene gli inserimenti da mezzala quindi nel gioco di allegri le mezzale o le mezzali ogni volta l'avete notato ogni volta vado a incespicare su un termine italiano vabbè quel tipo di giocatore piace a massimino allegri lui predilige i giocatori fisici quelli che si buttano dentro e vanno a realizzare o comunque a creare casino in area come dice spesso lui come diceva spesso lui come dirà di nuovo nella prossima stagione però è chiaro che sono tutte situazioni che sono figlie del fatto che non ci si sbriga ma perché non ci si sbriga perché te l'ho già fatto capire insomma ragazzi perché di bala vuole essere certo di essere al centro di un progetto o comunque vuole delle grandi garanzie in questo senso e il massimo delle garanzie di essere al centro del progetto potrebbero arrivare da una partenza di cristiano ronaldo non c'è assolutamente attrito tra loro due ve lo posso garantire al cento per cento anzi 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 ma è un dato di fatto che bisogna separare la questione umana da quella professionale quindi se umanamente di bala ha una grandissima stima di cristiano ronaldo ma anche professionalmente per carità perché come fai a criticare uno come cristiano ronaldo al tempo stesso beh è ovvio che sa benissimo che la sua stella potrebbe tornare a brillare se non avesse altre stelle che lo possono oscurare posto che di bala non è cristiano ronaldo e stiamo parlando di termini di paragone improponibili perché di bala lo puoi paragonare ad un ottimo altro giocatore non ad un extraterrestre come cristiano ronaldo se si fanno i confronti con un cristiano ronaldo con un messi e tra un poco tempo credo con un bappe è chiaro che perdi e perdi e perdi è improponibile il confronto no e quindi va da sé che la presenza di cristiano ronaldo vada ad oscurare altre presenze anche quelle su cui si può fondare una squadra su cui si era fondata una squadra prima del suo arrivo siamo fuori dalle logiche dei paragoni capite quello che vi voglio dire però non da qui non ricavate l'idea che io sto facendo dei video per andare contro cristiano ronaldo uno perché non ho tutto questo potere magari magari avessi un potere del genere di indirizzare un mercato di una squadra e in questo caso della juventus magari ma non ce l'ho ma non mi sogno nemmeno di avere un potere del genere ma non esiste proprio non è nella mia mentalità non è il mio modo di essere e di pensare chi mi conosce personalmente lo sa come sono fatto ok quindi non sto dicendo questo sto semplicemente prendendo atto del fatto ma mi tocca ripetelo per l'ennesima volta e poi mi fervoro che se c'è una strategia a lungo termine o anche scusate a medio lungo termine in questa strategia non può entrare un giocatore di 37 anni e che ha un anno solo di contratto quindi non lo puoi nemmeno inserire in un discorso di programmazione capite quello che voglio dire non solo contro cristiano ronaldo ma cristiano ronaldo in questo momento è fuori da un certo se vuoi se vuoi perseguire un certo tipo di progetto se non vuoi un certo tipo di progetto va benissimo ci provi ancora con lui l'anno prossimo a tornare a vincere il campionato e poi si vedrà cosa succede nelle altre competizioni capite quello che vi voglio dire penso di non dover spendere altre parole su questo punto cristiano ronaldo in questi anni ha dovuto ma per natura essere un di più che poi non abbia reso questo non abbia reso non che non abbia reso lui ha reso e come se ha reso e come se ha reso guardate i numeri ragazzi come se ha reso che poi la squadra non abbia ottenuto grazie anche al suo apporto risultati superiori a quelli che otteneva prima e questo è un altro tipo di discorso ma forse la chiave interpretativa di tutto questo qual è che cristiano ronaldo non ricalca o non poteva ricalcare i dettami della juventus lo spirito della juventus per quanto sia considerata una squadra nobile la juventus nobile perché comunque è una delle squadre più importanti del mondo che si voglia o no in italia quando parli di calcio italiano la prima squadra che ti viene in mente è la juventus ok la juventus è la squadra più popolare che ci sia in questo senso in realtà il fino alla fine la maglietta sudata il lottare il combattere senza specchiarsi troppo e il tutti per uno e uno per tutti il non mollare mai ma per la squadra non per se stessi questo è stato probabilmente a determinare che la juventus con cristiano ronaldo non abbia ottenuto più di quanto non avesse ottenuto prima è calata la squadra tecnicamente rispetto a quella del passato l'ha riportata in pari diciamo così in equilibrio la presenza di cristiano ronaldo pensate a cristiano ronaldo in un centrocampo con pogba marchisio pirlo eccetera sarebbe stato il real madrid no l'abbiamo sempre detto che cristiano ronaldo non ha trovato in questi anni di juve una squadra adeguata in toto alle sue caratteristiche o meglio la sua classe questo è stato il problema di cristiano ronaldo questo è stato il motivo per il quale ronaldo è andato semplicemente a compensare un calo di qualità tecnica della squadra rispetto a quando lui non c'era capite questa è la mia interpretazione questa è la mia spiegazione lo so che volete che parli di mercato ma non è vero che il prezzo di locatelli verrà fatto dopo l'europeo no praticamente è già stato fatto perché non possono bastare due gol per far salire il prezzo quelle sono cavolate perché poi allora se sbaglia le prossime tre partite cosa facciamo si dimezza la sua valutazione quello che può dare locatelli il sassuolo lo sa quello che può ricevere la juve da locatelli la juve lo sa e il prezzo è già stato fatto il prezzo è stato fatto qualcosa magari da limare ci sarà che ci possa essere l'intervento di qualche altra squadra ci sta l'europeo una bellissima vetrina la juve locatelli lo vede tutte le settimane giocare dall'estero magari se ne stanno accorgendo di più adesso perché c'è la vetrina europea ma non è vero che il prezzo dipenderà dall'andamento dell'europeo sarebbe troppo aleatorio sarebbe sfuggente rispetto alla realtà docatelli ha mostrato quello che è quello che potrà essere col rischio qualora andasse alla juventus col rischio di dovessi rimisurare con un ambiente tipo quello del milan che non credette in lui proprio per questo tipo di caratteristiche per il carattere però allora il ragazzo aveva 18 anni adesso ne ha 22 e mi sembra sentendolo parlare che ne dimostri molti di più se devo se mi chiedeste mentalmente culturalmente per lo spirito che ha dentro per l'umiltà che si porta dentro locatelli è un giocatore da juventus sì sì mi rispondo di sì per quello che dice per come si comporta il campo poi è un'altra cosa il campo è un'altra cosa ma probabilmente questo suo processo di maturazione lo porterà ad essere protagonista anche in una grande squadra magari non da subito ma pian piano ci potrà arrivare cosa mi ha colpito delle sue parole di ieri una frase in assoluto una frase in assoluto se non ci fosse stata la pandemia non avrei giocato l'europeo perché l'anno scorso non ero pronto questa è umiltà questa è grandezza perché l'umiltà è grandezza sono diventato pure filosofo stasera iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale di mio figlio c'è un video bellissimo che abbiamo girato domenica io e lui se siete amanti di supercar c'era la momi Monza Milano la manifestazione con tante bellissime auto supercar ma di quelle belle toste esposte in tutto il centro di Milano e l'abbiamo seguito assieme e il video è appena stato pubblicato sul canale di mio figlio guardate anche il mio però naturalmente al prossimo ciao 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 ciao